Allora senza troppe introduzioni vi vado a leggere cosa hanno detto i commentatori gli opinionisti che orbitano intorno al pianeta roma poi magari le commentiamo david rossi parlo parto da david rossi se la roma avesse vinto col milan non dico che sarebbe già dentro la champion ma insomma diciamo che con l'inter sarebbe stato un match point beh certo se avesse vinto con milan in inter inter solamente sarebbe entrancia così invece la gara contro i nerazzurri diventa una sorta di ciambella di salvataggio che aggiungo io arriva in un momento della stagione complicatissima cioè un complicatissimo cioè a pochi giorni dalla gara d'andata con leverkusen adesso come adesso tenendo conto della situazione degli infortunati la roma è quella che sta messa peggio ad oggi direi che la situazione è molto complicata milan inter adesso stiamo prendendo una cosa milan e inter sono favorite orsato è l'abito più importante in italia sta sul cazzo a tutti quanti colleghi questo ve lo posso garantire lo odiano tutti sta sulle palle a tutti quanti a lui il vagli fa schifo lo ha dimostrato in più di un'occasione prima di andarci deve succedere un omicidio in campo evidentemente di paolo non ci ha avuto il cuore la spinta di decateler sui bagna messa al novantasettesimo è un fallo cristallino anche molto vistoso molto evidente aggiungo io speriamo che non sia l'episodio determinante ma rischia di esserlo io nel video di presentazione della partita alla designazione di orsato ho detto raga orsato di schifo è tutto un programma conosciamo molto bene purtroppo come vedete insomma quando parliamo sappiamo di che cosa parliamo Gianluca Piacentini parla della partita contro il Monza di domani sera domani o fai la difesa a 4 oppure fai giocare Keramitzis dietro il giovane Keramitzis hanno scritto Keramitzis ma non si chiama così Keramitzis dietro se la Roma andrà in Champions la colpa sarà di orsato ma anche di bagnaz aggiungo io che doveva protestare molto più vivacemente però al novantacinquesimo i palloni devono finire uno in Montemario uno dentro Altevere ma questo è un luogo comune perché purtroppo davanti c'hai delle squadre che giocano anche meglio di te in tante occasioni e quindi è fisiologico che qualche pallone in aria ci arriva e che bisognerebbe marcare meglio ma senza Smalling vediamo che questi sono i risultati dovrebbe marcare meglio e soprattutto difendere meglio perché è evidente la palissiano che ragazzi su Selemekin c'è stava nessuno e il gol arriva perché Selemekin non viene marcato il difetto peggiore di Spinazzola si mette a parlare di Spinazzola quindi i punti in bianco è che non sa fare le diagonali in quel gol sì beh certo quella posizione lì era di Spinazzola ragazzi in quel gol c'è Mancini che sbaglia rinvio era era in precario equilibrio era stato l'equilibrio molto precario purtroppo è caduto quindi non è riuscito ad andare a coprire bene sulle au e quello ha avuto lo spazio di prendere la mira poi viene spinto i bagni cioè ne sono successe le cose in quell'azione Spinazzola non fa la diagonale e in ultimo lui Patricio si fa passare la palla sotto le gambe e veramente ne sono successe tante le cose in quell'azione detta così poi ci si rende conto che era proprio destino che il Milan dovesse pareggiare Mario Corsi partita quasi perfetta per la Roma sabato scorso non ho nulla ma quasi perfetta non mi trova molto racconto una partita molto galliarda abbiamo fatto un tiro in porta sembrava un campo di battaglia qualcuno cadeva i feriti portati via in barella però lì si vede il carattere di Murigno e dei giocatori perché loro erano in campo c'era anche un grande pubblico in campo direi peccato per il pareggio all'ultimo secondo la Roma meritava di vincere ma non mi sembra il problema sono le prossime partite nel momento in cui magari poteva vincere la Roma poteva aveva praticamente vinto meritava di vincere mi sembra un po' troppo aspettare che mi si spossa la pagina il problema sono le prossime partite il problema sono gli infortunati non le prossime partite nel momento in cui bisogna andare a Dama ci mancano le pedine i follieri ci aveva già provato tempo fa ma in questo momento è ricco e libero ma non è tanto quella è tutta la storia che è strana io però vorrei sapere se è vero che Fritkin ci ha parlato perché significherebbe che vuole vendere io spero che non ci abbia nemmeno parlato ma vedete se è un'altra storia che troppo in questo video salaggherebbe troppo il discorso Paolo Cento quelli con il Milan erano tre punti decisivi cioè questa convinzione tra i tipoti romanisti io invece non sono d'accordo ma alla fine basterebbe battere l'Inter vincere ti avrebbe messo in una situazione di vantaggio forse addirittura di tranquillità ma non credo perché questa è la classica squadra che batte il Milan e poi perde col Monza e quindi la tranquillità ragazzi ci abbiamo rinunciato da un pezzo se no non ti faremmo neanche Roma non ci sono giustificazioni a quel gol preto nel finale le giustificazioni sono che il gol è ad annullare la giustificazione è che l'arbitro è orsato di schifo hai compromesso una stagione esagerato ma la squadra ha fatto bene il Milan non mi sembrava imbattibile e questo particolare aumenta il rammarico le stelle non sono dalla tua parte questo sicuramente ma non è una novità e la via verso la Champions ora è in salita col Monza con la difesa a 4 secondo me no Mu confermerà la difesa a 3 la partita di domani è davvero ostica il Monza è una squadra in salute con un giocatore come Caprari che quando affronta la Roma ha sempre il dente avvelenato se la Roma non vince a Monza a me mi pare che tutti i giocatori quando giocano contro la Roma hanno il dente avvelenato non so per quale motivo se la Roma non vince a Monza la via del campionato diventa quasi impossibile hai un risultato solo domani devi vincere ma pure con l'Inter devi vincere ma non come siete sempre tutti estremisti Daniele Lomonaco turno infrasettimanale che nasconde tante insidie per la Roma sicuramente ma ragazzi Monza ha vinto due volte con la Juventus e ha vinto a Milano con l'Inter se ne è che ci sta tanto da facci dei ragionamenti sopra come gioca il mondo in questo momento la squadra sta cercando di fare il massimo ora purtroppo per via degli infortuni non sei al livello di quelle che stanno lì Milan, Inter, Juventus, Napoli e forse anche Lazio ma la Lazio ha il demerito assoluto di aver mollato le coppe e questo per me nel calcio di oggi è un demerito assoluto si ripete Lomonaco non puoi mollare le coppe perché non sei in grado è una cosa da provinciale calendario favorevole appunto pensi che loro abbiano una mentalità che sono il Manchester City è logico che sono una mentalità provinciale calendario favorevole alla Lazio ma questo parla un po' troppo della Lazio per i miei gusti ma un dubbio me lo tengo la Roma è una squadra che è cresciuta se ora fatichi è per colpa di una rosa non di grandissima qualità ma anche di moltissima sfiga perché ragazzi ho visto tre spalle uscire fuori in pochissimo tempo Solbaken, Ebram e Bove quella è sfiga cazzo non è diciamo allenamenti fatti male quel cadi male e ti si leva la spalla tre spalle lussate in poco tempo è clamoroso quella è veramente sfiga questa rosa rende al massimo solo quando ha i suoi giocatori migliori come valore assoluto la Roma inizio stagione doveva lottare per il quinto posto io a inizio stagione come sapete ho pronosticato il terzo posto per la Roma quindi con una Roma di cui tenevo conto Zaniolo Wijnaldum sempre Ebram dello scorso anno insomma io pronosticavo il terzo posto mi sembra che siamo lì ma siccome la Juve non giocherà sicuramente le coppe perché la UEFA la estrometterà la Roma può arrivare tra le prime quattro vabbè Mimmo Ferretti Cristante in difesa con Tahirovic e Bove a centrocampo no così saresti troppo leggerino io penso che Cristante stavolta se lo tiene in mezzo al campo visto che ti manca Matic è squalificato ma andrà comunque a Monza per fare gruppo insieme anche agli infortunati se Dybala non sarà disponibile dovrai puntare tutto su El Sharawi e Pellegrini anche su Ebram direi potresti fare anche un 4-4-2 o un 4-1-4-1 a voglia ecco 4-1-4-1 che sto leggendo di Mimmo Ferretti proposto a Mimmo Ferretti perché in questi giorni stiamo diventando tutti allenatori e proponiamo tutti dei moduli e io oggi pensavo a questo modulo 4-1-4-1 con Selic Mancini Bagnes a sinistra magari Spinazzola con Cristante davanti ai due centrali di difesa 4-1 poi da destra ci mettiamo non so El Sharawi Wijnaldum Matic Zaleschi oppure Zaleschi insomma questi giocatori insomma avete capito e la prima punta Ebram insomma questo è un modulo che secondo me si potrebbe fare ma Mourinho vuole giocare a tre e quindi oggi gira anche l'ipotesi che a Monza si potrebbe giocare con tre in difesa Selic Mancini centrale e Ibanez è un'ipotesi anche questo perché comunque non è che giochiamo con Real Madrid Selic in fondo con il Milan ha giocato molto bene per le sue possibilità ha giocato un'ottima partita servendo anche l'assista Ebram se Di Bano è stato disponibile dovrà puntare tutto su Ascianale e Pellerino e questo l'abbiamo già letto Roberto Prutto speriamo che il mondo abbia scaricato le batterie anche se mi dicono che stiano pensando all'ottavo posto per arrivare in Conference League con annesso premio garantito dalla società aggiungo io ora la speranza di recuperare qualche giocatore per l'Inter e poi quella di giovedì con Leverkusen ora devi battere il mondo restare in linea di galleggiamento e affrontare l'Inter e Bayer sperando di recuperare non dico tutti gli infortunati ma almeno un paio Solbac nel Sharawi Ebram in buone condizioni domani potrebbero abbassarti poi se recuperi Smalling Di Bala e Guainaldum per la Coppa sei più tranquillo non credo che Smalling sia recuperabile per la gara d'andata non credo proprio e farà fatica secondo me anche per la gara di ritorno purtroppo credo che Smalling lo vedremo in campo nelle ultime due partite di campionato il momento è delicato per la Roma ma anche per le altre col Monda sarà dura ma anche andare a Verona di questi tempi non è mica una passeggiata di salute a Verona sarà di scena l'Inter Gianni Visnadi Radio Radio il Monda non è sazio ha voglia di risultati prestigiosi e cercherà di vincere contro la Roma per mettere anche quella tacca è la più complicata delle partite in lotta per la Champions la Roma dovrà fare molta attenzione la più complicata forse di questo turno intende la partita complicata è Roma-Inter Furio Focolari partita complicatissima per la Roma non complicata la Roma se fosse al completo sarebbe favorita ma il mondo è una squadra che è completamente diversa da quando c'era Stroppa vabbè Stroppa ragazzi se parla del giorno è andata le primissime partite è passato un po' di tempo con Palladino ha fatto i punti del Milan mazza è una traffetta ecco questo è un dato statistico molto interessante che ci dice quanto sta facendo bene il Monda di Palladino è una traffetta difficilissima per la Roma che è in condizioni di sperare e esagerata e lì ha disperazione ragazzi nella vita e dalla tra altre cose non ha difensori ora ha perso anche con Bull e capirà c'è anche perdita è difficilissima Stefano Agresti partita molto molto difficile per la Roma cioè proprio sono tutti concordi su questo fatto la trasferta di Monza viene raccontata come una trasferta a Madrid contro il Real o a Manchester contro il City di Olanda a me non mi sembra che il Monza sia una squadra proprio così difficile una squadra molto rognosa il Monza continua a Stefano Agresti ha l'obiettivo concreto dell'ottavo posto la situazione della Juve ha dato motivazione a tante squadre lì dietro se la Juve viene esclusa dalle coppe l'ottavo posto ti porterebbe in Europa ricordiamo questo è molto importante ragazzi con la Juve fuori dalle coppe l'ottavo posto vale la Conference League perché ovviamente si libera un posto questo ha un valore grande per il mondo dal punto di vista simbolico sarebbe straordinario e ripeto anche dal punto di vista del premio qualificazione in Europa che porta anche soldi porterebbe soldi nelle casce del Monza da cui ecco perché è previsto un premio sarà una partita molto complicata per la Roma anche mentalmente molto difficile da preparare la Roma rischia molto se invece ne esce bene perché può anche vincere allora farebbe un pazzo veramente molto importante certo se ci fosse Di Bala mi sentirei molto più tranquillo ragazzi ecco penso che purtroppo capiamo tutti che di fronte a tutti questi infortuni purtroppo se ci rompiamo la testa nuovi tifosi per fare la formazione immaginate i tecnici insomma vediamo un po' di capire anche gli infortunati se riesco ad aprire le pagine allora la situazione di infortunati con Bull è quello uscito peggio da questo mete terribile la lesione del crociato lo mette out fino alla prossima stagione con tempi di recupero superiori superiori ai 4 mesi questa è la situazione di con Bull Belotti un dolore fortissimo al forfè a fine primo tempo il Gallo ha rimediato una frattura al costato che lo terrà out per un tempo indecifrato 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 mai sentire che sarà comunque superiore ai 10-15 giorni niente Inter e niente Leverkusen almeno all'andata Smalling è quello che manca di più alle prese con una lesione muscolare ieri Murini è stato pessimista ma il tentativo è quello di rimetterlo in campo il 18 maggio contro il Leverkusen al ritorno delle semifinali al peggio tornerà la domenica successiva insomma la gara d'andata Smalling già capito che non la gioca Llorente la lesione in questo caso è più profonda come testimoniavano le lacrime dello spagnolo con l'Atalanta che si rendeva anche conto a cosa andava incontro per lui lo stop di un mese e stagione praticamente finita a meno che la Roma non arrivi in finale di Europa Liga si sarebbe il colmo poi a recuperare Kumbulla per la finale Kardoff è forse meglio non recuperarlo a questo punto che Kumbulla poteva giocare col Monza con queste squadre qua Kardoff l'olandese si è sottoposto il 21 marzo a un intervento chirurgico di artroscropia al ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco interno i tempi di recupero gli permetterebbero di tornare nel finale ma Mourinho lo ha escluso probabilmente non ci sono solo problemi fisici alla base della scelta Wijnaldum l'unica buona notizia al centrocampista l'andeta è tornata ad allenarsi in gruppo dovrebbe essere convocato con Monza e scendere in campo titolare contro l'Inter sabato prossimo e fare le prove generali in vista dell'Everkusen Di Bala quello che ci interessa di più la botta alla caviglia non c'entra Paolo andrà gestito per il problema l'adduttore quindi non è stato tanto il problema l'entrata killer di Palomino dell'Atalanta dell'argentino Palomino ma è proprio questo problema l'adduttore che purtroppo Di Bala si trascina perché è la vera spada di Dammo su questa stagione della Roma ergo panchina col Monza staffetta con l'Inter ritorno nell'undici titolare con il Leverkusen all'andata ma si è chiaro io non lo farei proprio giocare col Monza una mezz'oretta con l'Inter giusto per testarlo oppure quattro d'ora col Monza 25 minuti mezz'ora contro l'Inter e poi dal primo minuto se lo dobbiamo giocare per forza contro il Leverkusen nella partita veramente fondamentale di questa parte di stagione vi ricordo gli appuntamenti quindi domani sera alle 21 Monza Roma Roma Inter il 6 maggio domani il 3 maggio Roma Leverkusen 11 maggio ore 21 Bologna Roma il 14 maggio alle ore 18 poi c'è il 18 maggio semifinale di ritorno di Europa Liga e Bayern Leverkusen Roma alle ore 21 Roma Salernitana il 22 maggio alle 18.30 Fiorentina Roma si gioca il 28 maggio orario da stabilire Roma Spezia il 4 giugno orario da stabilire insomma tanta carne al fuoco purtroppo al termine di una stagione così impegnativa anche per gli impegni delle nazionali con tante squadre italiane che sono andate avanti nelle coppie questo lavoramento è chiaro che ha colpito le squadre che avevano una rosa più corta rispetto alle altre ma del resto queste cose le abbiamo sempre dette quante volte mi avete sentito dire guardate che arriveranno le squalifiche arriveranno gli infortuni non abbiamo cambi adeguati quindi bisognerebbe far ruotare molto i giocatori questo non è stato fatto poi ci si è messa anche la sfiga e quindi a questo punto la stagione della Roma è un grandissimo punto interrogativo ma io penso che quello che è fondamentale fare è continuare a focalizzare costantemente i nostri sforzi e la nostra attenzione sulla gara d'andata dello Stadio Olimpico l'11 maggio gara d'andata dell'Europa League contro i tedeschi del Bayern Leverkusen grazie dell'attenzione e buona serata grazie a tutti